Ciao amiche e amici, qualche giorno fa stavo facendo una consulenza di naturopatia a una bella signora che per restare impersonale qui chiamerò Martina. Era vestita in un modo vistoso ma elegante, con uno stile ben definito e parlava con un bel tono sicuro. Ma in certi momenti quando parlava di sé trasferiva come una certa insicurezza. A un certo punto all'improvviso mi ha preso le mani e mi ha chiesto con gli occhi quasi lucidi ma la sicurezza e la fiducia in sé sono doti innate o si possono sviluppare. Mi ha confessato che lei si sentiva sempre insicura e fuori posto e voleva avere più fiducia in sé stessa. Ho ripensato a momenti nella mia vita in cui anch'io ho affrontato uno stato simile e alle tante persone, donne e uomini che ho incontrato e che cercavano una soluzione per sentirsi più sicuri, per avere più fiducia in sé stessi e autostima. E così ho pensato di fare questo video. Ma poi tu cosa hai risposto Martina? Le ho detto quello che penso. Sono convinta che la fiducia in sé sia qualcosa che tutti abbiamo dentro e che possiamo costruire o ricostruire. Ho parlato con lei per un po' e poi le ho promesso che avrei fatto un video con i miei consigli. Dopodiché Martina ha ritrovato la sua compostezza, mi ha ringraziato molto e quando ha lasciato il mio studio sembrava come sollevata da un peso invisibile. In questo video voglio proporvi tre strategie facili da mettere in pratica ma efficaci subito che potete fare ogni giorno e che vi faranno diventare e apparire persone sicure di sé in men che non si dica. Grazie Simona sei proprio un'amica. No problem. Ci tengo a parlarne anche perché su come avere più fiducia in sé stessi ne ho lette di tutti i colori. Ma cosa funziona veramente? Prima di condividere i miei tre esercizi voglio svelarvi un segreto. Qualcuno dice di iniziare dall'aspetto, di truccarsi, pettinarsi, vestirsi eleganti, parlare in modo assertivo ma io non sono d'accordo. Se non si costruisce la fiducia dentro si rischia di diventare una maschera di se stessi ed è ancora peggio. Poi ci si sente svuotati e si precipita ancora più in basso come stava per capitare a Martina. Se non si ottiene fiducia, stima di sé, forza interiore nel modo giusto non si hanno gli strumenti per affrontare le sfide della vita e si rimane preda dell'ansia, della paura, del senso di inadeguatezza. A proposito di forza interiore vi consiglio di guardare questo mio video. E adesso iniziamo ad aumentare la fiducia e l'autostima con i miei tre esercizi. Vi va? Prima cosa pensate a quello che avete già raggiunto. Come spiego in questo video la mente tende a soffermarsi su ciò che non abbiamo fatto, su ciò che non abbiamo ottenuto e questo poi ci fa pensare che non sappiamo mai ottenere nulla. Invece concentriamoci sulle cose che abbiamo realizzato, grandi o piccole che siano. Scrivete una lista di tutte le cose di cui siete orgogliosi nella vostra vita. Ma tutto, anche le cose minime che ci sembrano banali. Ma nulla è banale in una vita. Pensate alle cose che avete raggiunto. Un buon voto a un esame, un buon piatto in cucina, un sorriso che avete donato a qualcuno per strada. Tenete questa lista a portata di mano e aggiungete ogni successo che ottenete. E quando siete a corto di fiducia in voi stessi, tirate fuori la lista e usatela per ricordarvi di tutte le cose belle che avete fatto. Poi ne scegliete qualcuna e la rifate. Seconda cosa, datevi alcuni obiettivi. Impostate alcuni obiettivi ma raggiungibili e dimostrate a voi stessi che siete in grado di raggiungerli. Iniziate con cose semplici, piccole, come fare una torta, organizzare una serata speciale tra amici o realizzare qualcosa di manuale, fatto dalle vostre mani. Scrivetelo prima e poi spuntate la lista man mano che realizzate i vostri obiettivi. Così, aumenta la fiducia in voi stessi e nella vostra capacità di riuscire a fare le cose. E anche bene. Nella nostra società è quasi sparito il lavoro manuale in famiglia, come l'orto, le marmellate, il lavoro a maglia, i piccoli lavoretti con il legno. Sembravano attività vecchie, ma erano quelle che tenevano insieme il carattere, l'umore e la fiducia nella capacità di saper fare le cose. Facili questi consigli, vero? Ma anche molto efficaci. E adesso, prima di ascoltare il terzo esercizio, è il momento di mettere un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al mio canale per tanti altri video su salute naturale e crescita personale, con un click. Così. E attivate le notifiche. Così diventiamo tanti e facciamo tante cose insieme. Terza cosa da fare. Parlate con voi stessi. Sapete chi è la persona con cui parliamo di più? Noi stessi. Brava! Come fai a saperlo? E lo hai detto tu nel titolo di questa terza strategia. È vero. Se noi siamo la persona con cui parliamo di più, siamo la persona che ha più influenza su di noi. Ci avevate mai pensato? Ma no, a me sembra di ascoltare più gli altri che me stessa. Sì e no. Gli esperti dicono che ascoltiamo gli altri per rispondere a noi stessi. Quindi, ogni volta che abbiamo un pensiero negativo che abbassa la fiducia, rispondiamo a noi stessi con un pensiero positivo, fino a quando i pensieri negativi si stancano e si trasformano direttamente in pensieri positivi. Potete fare pratica davanti allo specchio. Dite ad alta voce uno dei vostri pensieri negativi ricorrenti e poi lo contraddite subito con un pensiero positivo, detto a voce più alta, come le due Simone che si parlano nei tuoi video. Sì, brava. Così. Questo aiuta a esercitare e allenare il pensiero positivo, una delle risorse più importanti per la fiducia in sé. Ricordate, la fiducia in noi stessi è alla base di tutti i momenti magici della vita, piccoli o grandi che siano. È come sapere qualcosa che gli altri non sanno. Loro possono non crederci, criticarci, giudicarci, ma noi sappiamo di avere ragione. Fate questi esercizi, esplorate il vostro cuore e allenate la mente e vedrete che aumenterà la fiducia interiore, quella che nessuno può spegnere. E condividete questo video con tutte le persone a cui tenete. Avranno più fiducia in loro stesse e anche in voi. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! In questo video voglio... Mi ha detto a te? 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 Mi ha detto a te?